Un incendio è divampato nella mattinata del sabato 13 luglio intorno alle 11 in un'azienda di stoccaggio rifiuti industriali in Corso Kennedy e Robassomero. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Nole, San Maurizio Canavese, Torino, Carrofiamma e Nebcr, oltre alla polizia locale di Robassomero, i carabinieri del nucleo radiomobile e la della stazione di Fiano. Fortunatamente, quando è accaduto, non c'era nessuno che lavorava all'interno. Pare che ad incendiarsi siano stati alcuni rifiuti stipati. Dall'incendio si è elevato un denso fumo bianco che ha fatto procedere con cautela i vigili del fuoco, considerando le sostanze chimiche presenti, le quali hanno provocato anche alcune piccole esplosioni. Spento l'incendio, al momento si sta procedendo con il raffreddamento di alcuni silos. Non si esclude la matrice dolosa. Pare infatti che la porta dell'azienda sia stata forzata. Procedono i carabinieri di Fiano. Grazie. Grazie.